Allora, per iniziare questo lavoro andiamo a mettere su 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4. Le prime 3 catenelle, a partire dall'uncinetto, sono la nostra prima maglia alta iniziale. Nella quarta andiamo a fare la seconda maglia alta, quindi una maglia alta nell'ultima catenella. E così sono due maglie alte. Facciamo due catenelle di separazione e rientriamo nello stesso foro e facciamo altre due maglie alte, quindi una. Rientro nello stesso foro e vado a fare una seconda maglia alta. Due catenelle di separazione e andiamo ancora nello stesso foro a fare altre due maglie alte, quindi una e due. Giriamo il lavoro, entriamo nel primo foro e facciamo una maglia bassissima. Dopodiché vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro nello stesso foro e vado a fare una maglia alta. Due catenelle di separazione. E rientro ancora nello stesso foro e vado a fare altre due maglie alte. Poi faccio 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. E nel prossimo foro vado a fare ancora due maglie alte, 1, vado a fare la seconda nello stesso foro, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. Mi raccomando, quando usate questi tipi di filati che hanno dentro il moerra, mi raccomando di utilizzare sempre un uncinetto un po' più grande, quindi io in questo caso uso il 4 quando il filo invece è sottilissimo, quindi vado a usare un uncinetto grande, per fare in modo che la lana rimanga morbida, perché comunque il moerra deve rimanere morbido. In più, mi raccomando, non stringete troppo il lavoro, non lavorate troppo stretto, quindi se lavorate stretto, invece di utilizzare il 4 andrete a utilizzare il 5, proprio per evitare che il lavoro rimanga troppo stretto e la lana si stringa troppo. Detto questo, andiamo a fare il terzo giro, scusate, giriamo il lavoro e di nuovo andiamo a fare una maglia bassissima nel primo foro. Dopodiché faccio 3 catenelle, la prima nostra maglia alta iniziale, rientro nel foro e vado a fare una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione e ancora nello stesso foro rientro e faccio altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. 3 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3. Nel prossimo foro io vado a fare una maglia bassa, quindi maglia bassa e 3 catenelle di separazione. Nell'ultimo foro vado e vado a fare una maglia alta, un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Una cosa che vi dico già subito è che iniziamo il lavoro sempre, ogni giro che iniziamo, iniziamo sempre con una maglia bassissima nel primo foro, 3 catenelle, 1 maglia alta nello stesso foro, 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte. E finiremo sempre il lavoro, sempre, in tutti i giri, andremo sempre a fare 2 maglie alte nel foro, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo perché così già creiamo praticamente il bordo del nostro scialle. E in questa maniera viene molto molto carino perché sembrano delle piccole trecce, lo vedrete poi man mano che andiamo avanti con il lavoro. Quindi mi raccomando, l'inizio e la fine si iniziano sempre nella stessa maniera e finisce sempre nella stessa maniera. Quindi nel primo foro maglia bassissima, 3 catenelle, maglia alta nello stesso foro, 2 catenelle, 2 maglie alte sempre nello stesso foro. Alla fine andremo sempre nell'ultimo foro e faremo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Questo è importantissimo così vi velocizza il lavoro se già lo sapete a priori. Adesso andiamo a fare il quarto giro. Il quarto giro, come il quinto e il sesto, andremo sempre a ripeterli. Quindi noi adesso abbiamo fatto tre giri, questi non li faremo più perché è solo l'inizio del lavoro. Andremo poi a ripetere durante la lavorazione sempre il quarto, il quinto e il sesto giro. Quindi mi raccomando, fate attenzione a questi tre passaggi. Chiaramente io adesso vi farò vedere il quarto, il quinto e il sesto giro e poi ne faremo altri tre insieme. In modo da farvi vedere poi i fiori, come si distaccano l'uno dall'altro e come fare gli aumenti con i fiori. Detto questo andiamo a fare il quarto giro. Ok, giriamo il lavoro e andiamo a fare appunto il quarto giro. Quindi andiamo a fare il solito lavoro iniziale. Maglia bassissima nel foro. Uno, due, tre. Maglia alta. Due catenelle. E due maglie alte. Questa è la parte che andiamo sempre sempre a ripetere. Quindi è un passaggio fisso questo. Facciamo tre catenelle e andiamo a fare la prima parte del fiore, quindi la metà del fiore. Andiamo non nella prima maglia alta ma nella seguente, prendendo il filo come se dovessimo fare una maglia alta. Andiamo nella maglia alta sotto, aggancio il filo, tiro il filo, prendo, rientro nella maglia alta sotto, aggancio il filo, tiro. Ok, così. E vado a farlo per una terza volta, prendo il filo, entro, aggancio ed esco. Questo è il primo petalo, però non lo vado a chiudere. Adesso prendo il filo e vado a fare il secondo petalo nella maglia bassa successiva. Quindi, entro nella maglia bassa, aggancio il filo e tiro uno. Prendo il filo, entro nella maglia bassa, aggancio il filo, tiro due. Prendo il filo, entro nella maglia bassa, aggancio il filo tre. Secondo petalo. Andiamo a fare il terzo senza chiudere. Andiamo nella prima maglia alta, che viene praticamente, c'è il foro e poi la maglia alta. Andiamo nella prima maglia alta, agganciamo il filo e tiriamo uno. Prendo il filo, entro, aggancio, tiro due. Prendo il filo, entro, aggancio e tiro tre. Quindi, i petali sono formati da tre tiranti. Ora prendo il filo, facendo attenzione, esco da tutte le maglie che ho sull'uncinetto. Una volta che ho fatto questo procedimento, chiudo con una maglia e finalizzo il fiore con una maglia bassissima. Fatto questo, andiamo a fare ancora un petalo prima di continuare. Quindi faccio due catenelle, che è come se fosse il nostro primo tirante. Quindi, in questo caso, vado a farlo solo due volte. Prendo il filo, entro nel foro centrale del fiore, aggancio, esco uno. Prendo il filo, rientro nel centro del fiore, aggancio ed esco due. Chiudo questo petalo, esco quindi da tutti e finalizzo con una maglia bassissima, o comunque con una catenella, scusate. Dopodiché faccio tre catenelle, due e tre. Rientro nel... no, scusate, non faccio le tre catenelle, finalizzo e basta. Finalizzo e dunque, sì, due volte chiudo, faccio la catenella e faccio una maglia bassissima. In questo caso rientro nella maglia alta sotto, dove abbiamo lavorato il petalo, perché non ho altri spazi per poterla chiudere. Quindi, in questo caso, entrerò qua e faccio una maglia bassa. Faccio tre catenelle. E, nell'ultimo foro, chiaramente, andiamo a ripetere il nostro passaggio, quello fisso. Quindi, due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Andiamo adesso a vedere come fare il quinto giro. giro il lavoro, vado a fare il mio solito passaggio iniziale. Maglia bassa, tre catenelle, una maglia alta nel foro, due catenelle e due maglie alte. Una e due. Adesso, praticamente, dobbiamo andare a finire il fiore, no? Ok, quindi, il quinto passaggio, che poi, appunto, si ripeterà insieme al quarto e al sesto. Andiamo a fare tre catenelle. Poi, una maglia bassa, andiamo a farla qui nel foro. Tre catenelle. E, nel centro del fiore, andiamo a fare altri tre petali. Quindi, prendiamo il filo, andiamo nel, dove praticamente c'è il foro. Qua. Tiriamo uno. Scusate, che sto guardando qui, che non riesco a capire. Tiriamo uno, poi, andiamo, riprendiamo, tiriamo due e tiriamo tre. In questo caso, andiamo a chiuderlo subito. E finalizziamo con una catenella. Dopodiché, facciamo tre catenelle. Una, due, tre. Rientriamo nel foro e andiamo a fare altro uno, due e tre. Chiudiamo il petalo e finalizziamo con una catenella. Dopodiché, facciamo ancora uno, due, tre catenelle e facciamo l'ultimo petalo. Quindi, entro e tiro uno, prendo il filo, entro e tiro tre, cioè due, scusate, entro, prendo il filo e faccio per la terza volta il tirante. Tiro tutto e chiudo e finalizzo con una catenella. E così ho fatto il mio petalo. Un'altra volta, adesso facciamo tre catenelle. Una maglia bassa in questo arco. Tre catenelle. Una, due, tre. E adesso andiamo a chiudere nel solito modo. Quindi, due maglie alte. Una. Due. Due catenelle e altre due maglie alte. Una. E due. Andiamo a fare il sesto giro. Giriamo il lavoro. Maglia bassissima. Tre catenelle. Maglia alta. Due catenelle. E due maglie alte. È il solito lavoro che andiamo a fare in tutti gli inizi giri. Dopodiché, facciamo tre catenelle. Una maglia bassa nel primo foro. Una, due, tre catenelle. Una maglia bassa nel prossimo foro. Maglia bassa nel foro, sempre tra i petali. Una, due, tre. Andiamo nel foro tra i petali e facciamo una maglia bassa. Una, due, tre catenelle. Maglia bassa nel foro, sempre tra i petali. Maglia bassa nel prossimo foro, sempre tra i petali e facciamo una maglia bassa nel prossimo foro. Una, due, tre catenelle. E adesso andiamo a chiudere con due maglie alte, due catenelle e due maglie alte. Ok, adesso andiamo a ripetere, come vi dicevo, il quarto giro. Perché quelli che andiamo a ripetere sempre sono quarto, quinto e sesto giro. In questo caso, però, vi mostro come fare, praticamente, siccome qui andiamo ad aumentare ogni volta, automaticamente aumenteranno anche i fiori da fare. Vi mostro proprio come fare e come distanziare i fiori tra di loro. Perché il fiore in sé va fatto sempre in questa maniera. Però, per capire ogni quanto andrà fatto un fiore, ve lo spiego in questo momento. Allora, innanzitutto andiamo a fare la nostra maglia bassissima iniziale con le tre catenelle, la maglia alta, due catenelle e altre due maglie alte. Questo, fin qua ci siamo. Nel quarto giro, come vedete, noi abbiamo fatto, appunto, abbiamo fatto tre catenelle per fare, praticamente, il fiore, no? Iniziamo subito a fare il fiore, in questo caso. Ma andiamo a farlo, chiaramente, nella seconda maglia alta. Iniziamo a fare i primi petali, perché in questo caso noi non andremo più a fare un fiore, ma ne andremo a fare due. Uno all'inizio e uno alla fine. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio. Per fare il fiore abbiamo iniziato a farla non nella prima maglia alta, ma nella successiva, tirando per tre volte, quindi prendendo il filo per tre volte. Uno. Due. Tre. Primo petalo, prendo il filo, vado nella maglia bassa successiva e vado a fare il secondo petalo, quindi uno, due, tre. Secondo petalo, andiamo a fare il terzo, nella prossima maglia bassa. Uno. Due. Tre. Chiudiamo, quindi usciamo da tutti, piano, piano. Adesso esco anche dalla maglia bassa, cioè dalla prima catenella, scusate, e finalizzo con una catenella. Ok? In questo caso dobbiamo fare l'altro petalo. Cosa facciamo? Facciamo uno, due, entro nel foro, perché vi ricordo che anche prima abbiamo fatto la stessa cosa, tiro uno, prendo il filo, aggancio e tiro due. In questo caso, solo due volte, perché ci sono le catenelle. Chiudo e finalizzo con una catenella. Dopodiché, vado e faccio, in questo caso, non vado qui dove abbiamo già fatto il petalo, ma vado nel primo foro, perché prima qui l'abbiamo fatto solo perché non c'era altro spazio. In questo caso, invece, noi andiamo nel foro e facciamo una maglia bassa e abbiamo fatto una parte del fiore. Adesso vado a fare tre catenelle, una, due e tre. Nel primo, nel foro, vado e faccio una maglia bassa. Tre catenelle, una, due e tre. Scusate perché, ecco così, mi sembra un po' meglio, tre. Vado a fare una maglia bassa, nella maglia bassa, cioè nel foro successivo. Noi abbiamo fatto il fiore qua. Per capire ogni quanto nel quarto giro noi andiamo a fare un fiore, per capire, perché si iniziano nel quarto giro e si finiscono nel quinto. Per capire ogni quanto dobbiamo distanziarli, quindi ogni quanto fare il fiore, è questo che ce lo dice. Nel senso che noi qui abbiamo il fiore, abbiamo fatto un foro e due fori. Vedete qua, un foro, due fori. Ogni due fori, nel quarto giro, chiaramente, quando dobbiamo fare i fiori, ogni due fori andiamo a fare un fiore. Quindi, fiore, un foro, due fori, fiore. Quindi, adesso non facciamo altro che ripetere, diciamo, quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi, abbiamo fatto, distanziato, tre catenelle, una maglia bassa, tre catenelle, una maglia bassa, e poi, ora facciamo tre catenelle. Uno, due, tre. e, subito, nella maglia bassa che troviamo qui, subito dopo il foro dove siamo adesso, noi siamo qua, nella maglia bassa successiva, subito, andiamo a fare il primo petalo. Quindi, entriamo nella maglia bassa, tiriamo uno, tiriamo due, tiriamo tre, ed è il primo petalo. Andiamo a fare il secondo. Andiamo nella prossima maglia bassa, e, uno, due, tre. Andiamo a fare il terzo petalo. Prendo il filo e vado nella prima maglia alta che abbiamo. Quindi, entro, tiro uno, tiro due, e tiro tre. Prendo il filo ed esco piano piano da tutti, senza agganciare, da tutti i punti che ho sull'uncinetto. e finalizzo con una catenella. E fin qua, vedete che abbiamo ripetuto quello che stavamo facendo qua. Adesso, due catenelle. rientriamo nel foro che abbiamo creato. Tiriamo uno, prendiamo il filo, rientriamo e tiriamo due. E chiudiamo e finalizziamo con una catenella. Ora, vado qua dove ho fatto questo, quindi nella maglia alta, e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, e vado a chiudere sempre con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Quindi, ogni volta che noi chiaramente andiamo in su e aumentiamo i giri, aumenteranno anche i fiori. Ma è semplicissimo. Perché non fate altro che fare il fiore e chiaramente fare la maglia bassa per chiuderlo. Poi, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, fiore. Quindi, praticamente, viene distanziato solo da due fori.